la prossima puntata di golf mania andrà in onda sabato alle 18 e domenica alle 8 su sport italia sarà al golf brianza con il nostro maestro nicola zappa che farà una lezione speciale al pat a un mito del calcio chi non se lo ricorda ivano bordon veste golfista come andiamo abbastanza bene penso che oggi mi darà sicuramente dei consigli per migliorare meglio stare in mezzo ai pali o mettersi lì per fare un party o sebbene il golf mi piaccia molto però devo dire che il mio ruolo il mio diciamo lavoro il mio divertimento che era il calcio è tutt'altra cosa allora c'è un esercizio fantastico che ha ideato il nostro maestro cosa fai fare a bordon è un esercizio premetto ivano non avrebbe bisogno di fare tutto questo training perché già di suo è molto avanti ma abbiamo individuato una zona è un punto debole di ivano e quindi ci siamo concentrati su quello il pat da meno di due metri ragazzi dovete assolutamente seguirci nel prossimo weekend su golf mania grazie ivano grazie nicola è sempre un piacere vi aspettiamo